Il 4 gennaio 2022 entra in vigore la più grande restrizione della storia dei tatuaggi, un processo che toglie dal mercato 4000 sostanze chimiche che prima erano utilizzate per produrre gli inchiostri. Questo non significa che l'Europa vieterà i tatuaggi a colori come abbiamo letto su tutti i principali media a inizio di dicembre 2021, ma non significa nemmeno che non cambierà niente, proviamo assieme a vedere come stanno davvero le cose. Ciao a tutti, io sono Beatrice Mautino e su questo canale parliamo di cosmetici, e non solo, visti con gli occhi della scienza. I tatuaggi interessano il 12% della popolazione europea, con una probabilità doppia di avere un tatuaggio nella fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. A questi si aggiungono tra il 3 e il 20% di persone che scelgono di fare un tatuaggio cosmetico, il cosiddetto trucco permanente o PMU, permanent makeup. Possono cambiare le tecniche, ma tutti i tatuaggi affinché siano permanenti, cioè che rimangano lì nella pelle, prevedono di bucare, di penetrare all'interno degli strati più profondi e iniettare lì l'inchiostro. Quello che succede a quel punto è che una prima quota dei pigmenti si perde subito, con il sanguinamento provocato dagli aghi altri strumenti che si utilizzano per fare il tatuaggio. Un'altra quota importante viene trasportata in tutto l'organismo dal sistema linfatico e dal sistema circolatorio. La quota che rimane lì, nella pelle, subisce un'azione lenta e distruttiva dei raggi ultravioletti. Dal punto di vista chimico, i raggi ultravioletti spezzano le molecole dei pigmenti, un po' come fanno d'estate con i nostri capelli quando spezzano le molecole di melanina e i nostri capelli si schiariscono. I pigmenti spezzati possono rimanere lì oppure anche loro possono essere trasportati dal sistema linfatico e circolatorio negli organi del nostro corpo. Quello che è sicuro è che tra presenza nel derma e distribuzione in tutto l'organismo, farsi un tatuaggio significa scegliere di rimanere a contatto per tutta la nostra vita con delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Ma vediamo quali possono essere i rischi. Il primo, il più ovvio, quello su cui possiamo fare di più è legato alle infezioni. Come abbiamo già detto per fare un tatuaggio è necessario pungere oppure tagliare la pelle e penetrare in profondità. Quest'azione mette direttamente a contatto con il sangue gli strumenti utilizzati per fare il tatuaggio, in più lascia una ferita aperta che potrebbe infettarsi. Questo è il motivo per cui le misure igieniche degli studi per tatuaggi devono essere particolarmente ferree e quindi garantire l'utilizzo di strumenti sterili oppure sterilizzabili in autoclave. Utilizzare inchiostri sterili, camici monouso, guanti, ci deve essere un po' l'approccio da studio medico oppure da ospedale. Se si lavora bene il rischio di infezione è molto basso. Un altro aspetto importante sul quale però gli operatori non possono fare molto perché dipende dal sistema immunitario della persona tatuata sono le reazioni di tipo infiammatorio, allergiche oppure no. Queste reazioni rappresentano una buona metà di tutti gli effetti collaterali riscontrati in seguito a un tatuaggio. Essi manifestano come alterazioni della pelle, rigonfiamenti, cicatrici, ulcere, necrosi. Il fatto poi che i pigmenti vengano trasportati dal sistema linfatico e dal sistema circolatorio in tutto l'organismo provoca l'accumulo di questi pigmenti e delle altre sostanze contenute negli inchiostri nei linfonodi e nel fegato. Le conseguenze di questi accumuli non si conoscono ancora bene, non si sa nemmeno se ci siano delle conseguenze a lungo termine e sappiamo ancora molto poco di una possibile correlazione tra tatuaggi e tumori. I pochi studi epidemiologici condotti sembrano escludere una correlazione tra i tatuaggi e i tumori della pelle. Per tutti gli altri tumori i dati sono ancora troppo pochi, così come sono molto pochi i dati sugli effetti dei tatuaggi sulla riproduzione. Sappiamo che alcune sostanze chimiche contenute negli inchiostri possono passare attraverso la placenta e raggiungere il feto, motivo per cui a scopo precauzionale durante la gravidanza si consiglia di non fare un tatuaggio. Lo stesso vale per l'allattamento. A fronte di questi rischi, che come abbiamo visto sono ancora in parte ignoti, il sistema delle regole attorno al mondo dei tatuaggi è stato definito nel 2003 dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori come un paradosso legale. Questo perché sebbene siano utilizzati a scopo estetico, il fatto che si debbano iniettare negli strati più profondi del derma degli inchiostri li esclude automaticamente dal regolamento dei cosmetici, perché i cosmetici possono avere un'azione solo esterna. Ovviamente non sono farmaci, non sono medicinali, ma non sono nemmeno alimenti. Per il momento sono nel limbo dei prodotti generici di consumo. Per farvi un esempio concreto, un pigmento utilizzato per una tinta per capelli ricade nel regolamento cosmetico. Lo stesso pigmento, se viene utilizzato per produrre un alimento, magari un colorante alimentare, ricade nel regolamento equivalente degli alimenti. Se però questo pigmento viene iniettato sotto pelle, allora qui le regole si fanno molto meno chiare. Non esiste una normativa comune europea come invece c'è per tutti gli altri settori. Abbiamo due risoluzioni non vincolanti risalenti al 2003 e al 2008, le cosiddette RESAP, che indicano i criteri per la valutazione di sicurezza degli inchiostri. E in queste risoluzioni c'è anche una lista di sostanze chimiche che non dovrebbero essere utilizzate negli inchiostri. Questi documenti del Consiglio di Europa sono pensati per essere delle linee guida che gli stati membri possono decidere di seguire oppure no. A livello nazionale noi in Italia abbiamo delle ulteriori linee guida emanate dal Ministero della Salute, ma queste linee guida si sgretolano nella frammentazione del sistema sanitario regionale, per cui ogni regione fa un po' a sé, sia sul piano delle regole igieniche, degli studi per tatuaggi, sia sulla formazione degli operatori, sia anche sulle caratteristiche di accesso, per esempio sull'età minima per potersi fare un tatuaggio. Per cercare di fare ordine in questo marasma nel 2015 la Commissione europea ha chiesto all'autorità per le sostanze chimiche, l'ECA, di valutare i rischi delle sostanze chimiche contenuti negli inchiostri per tatuaggi e di arrivare con una proposta di restrizione da proporre a tutti gli stati membri. La motivazione della Commissione è legata alle numerose preoccupazioni legate alla salute pubblica. Questo perché alcuni ingredienti contenuti negli inchiostri sono sensibilizzanti per la pelle, quindi possono provocare lo sviluppo di reazioni oppure di allergie. Alcuni ingredienti rientrano nella categoria che viene chiamata CMR, cioè quella dei cancerogeni mutagini e tossici per la riproduzione. L'obiettivo della Commissione era quindi quello di aggiornare e rendere effettive e vincolanti le disposizioni contenute nella risoluzione del Consiglio d'Europa del 2008, con l'intento di inserirle nel Rich. Se si parla di sostanze chimiche, il Rich è l'imperatore galattico. Tutto ciò che è chimico deve sottostare a questo regolamento. Le registrazioni delle sostanze nuove passano di lì, così come passano di lì le restrizioni. Se qualcosa entra nel Rich diventa immediatamente valido su tutto il territorio europeo. L'ECA ha lavorato per cinque anni, analizzando decine di migliaia di sostanze chimiche ed è arrivata a una proposta di restrizione nel 2020. Gli Stati membri l'hanno valutata e alla fine è stata adottata dalla Commissione nel dicembre dello stesso anno. Entra in vigore il 4 gennaio 2022, cioè un anno dopo la sua adozione. Questo tempo di attesa è una prassi abbastanza comune e permette alle aziende e agli operatori di adattarsi alle aziende di produrre nuovi inchiostri conformi e agli operatori di smaltire le scorte e di fare scorta invece di inchiostri nuovi. L'approccio dell'ECA nella valutazione del rischio legato agli inchiostri è stato molteplice. Intanto tutte le sostanze vietate nei cosmetici devono essere vietate anche nei tatuaggi. D'altronde se non possiamo spalmarceli sulla pelle perché dovremmo poterceli iniettare sotto pelle. Tutte le sostanze classificate come CMR, cioè come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, sono vietate. Per le sostanze irritanti oppure corrosive per le quali non è possibile stabilire un valore di soglia accettabile, la restrizione propone di ridurne la presenza il più possibile fino allo 0,1%. Il risultato di questo lungo processo è l'eliminazione dal mercato di circa 4.000 sostanze. Sono rimasti fuori dalla restrizione solo due pigmenti, un pigmento verde e un pigmento blu, per i quali la Commissione e gli Stati Membri hanno concesso più tempo fino a inizio 2023, banalmente perché non esistono delle alternative disponibili sul mercato e visto che si tratta di due pigmenti molto utilizzati, toglierli dal mercato metterebbe in difficoltà gli operatori e anche le aziende. Ci sono state reazioni molto accese nel mondo dei tatuatori. Non appena è stata annunciata la restrizione è partita la campagna Save the Pigments, nella quale l'ECA viene accusata di aver valutato la sicurezza dei pigmenti non sulla base di certezze ma sulla base di sospetti e ovviamente questa petizione spinge molto sulle difficoltà economiche che il mercato evidentemente subirà. Nel nostro paese abbiamo avuto un assaggio di queste reazioni di protesta con la campagna mediatica che ha portato tutti i giornali, i telegiornali a pubblicare la notizia che l'Europa avrebbe vietato i tatuaggi a colori. Questa campagna è partita come spesso accade con un comunicato stampa prodotto da un'associazione di tatuatori che è stato pubblicato di nuovo purtroppo come spesso accade senza le dovute verifiche del caso. Ovviamente l'Europa non ci toglie i colori ma obbliga i produttori e gli operatori a utilizzare inchiostri più sicuri dei precedenti. Farsi un tatuaggio non è mai un'operazione innocua. Come abbiamo visto conosciamo i rischi più comuni come le infezioni oppure le reazioni di tipo allergico. Abbiamo accettato per anni che potessero contenere delle sostanze evidentemente tossiche, cancerogene e irritanti. E sappiamo anche che questa restrizione per quanto importante, anzi epocale, è comunque un compromesso. Non esiste il colorante innocuo, l'inchiostro senza metalli, il tatuaggio senza rischi. Possiamo vietare le sostanze peggiori, possiamo mettere soglie, limiti alle quantità di metalli e di altre impurità presenti, possiamo imporre una formazione seria, ferrea agli operatori, ma non possiamo eliminare del tutto il rischio perché per farlo dovremmo vietare totalmente i tatuaggi. Per questo motivo a me questa storia piace particolarmente, tanto che le ho dedicato un intero capitolo del mio ultimo libro, è naturale bellezza, perché la storia dei tatuaggi è la storia di come noi che siamo molto paurosi, che tendiamo a scappare a ogni possibile allarme, neanche all'allarme vero, basta un'idea di allarme. Beh, con i tatuaggi abbiamo abbassato la guardia perché ci sono familiari, fanno parte della nostra storia e delle cose familiari noi tendiamo a sottostimare i rischi, mentre invece di altre cose che vediamo come nuove o come estranee tendiamo a preoccuparci di più e a pretendere una sicurezza che invece non pretendiamo da ciò che ci è più familiare. Per oggi la chiudo qui, sono molto contenta di essere tornata su youtube dopo tantissimo tempo, non faccio promesse, spero però che non passi di nuovo tanto tempo prima del prossimo video. Vi saluto tutti e vi auguro un buon anno davvero!